Ciao a tutti, ben ritrovati in un nuovo video, sono sempre vestita uguale perché oggi ho avuto un attimo di tempo e ho girato un bel po' di contenuti che spero che vi facciano piacere, che vedrete chiaramente scaglionati nelle varie giornate. Allora oggi è giovedì 3 ottobre, è sera, ho completato il primo mese di integrazione capelli con Stan Artis, non è un video sponsorizzato, nessuno mi ha mandato nulla, ho pagato con i miei soldini, ci tengo a dirlo perché è comunque molto sponsorizzato su Instagram. Se avete visto il video dei finiti beauty del mese di settembre sapete che ho finito il primo ciclo, ve l'ho fatto vedere, adesso ho buttato tutto, erano finiti chiaramente, qui ho cominciato, adesso non sa, dopo faccio tutto lo struccaggio eccetera, ho cominciato la seconda confezione, cioè il secondo mese di fiale d'urto, queste qui, con Stan Artis, che bisogna farla una a sera, tutte le sere. Sul sito vendono il kit con due mesi di fiale e due mesi di integrazione per bocca, sono andata di là a prendere il mio integratore, la prima confezione del secondo mese di utilizzo, vi faccio vedere, queste sono le pasticche, se ne prendono due al giorno a stomaco pieno, io le prendo appena finita colazione e appunto ho cominciato oggi il secondo mese di utilizzo. Allora, dopo un mese io credo sia opportuno dedicarci un video, io sapete tutta la trafila dei capelli, anzi vado a togliere appunto il cerchietto di Shane, Shane o come si chiama, che adesso vi farò vedere. Sapete tutta la trafila dei capelli, se mi seguite da diverso tempo, se non mi seguite ancora, mi raccomando, cominciate a farlo, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, così rimanete aggiornati. Se mi seguite sapete che comunque la questione dei capelli è una questione molto, come dire, complessa, ostica, difficile a tratti, a seconda poi di come va. Ho attraversato diversi momenti, diverse fasi, la scorsa primavera sono andata anche da un professionista. Le integrazioni della scorsa primavera non ve le ho fatte vedere per il semplice fatto che c'erano dei farmaci e quindi chiaramente essendoci di mezzo un professionista da cui sono andata, per me, e quindi con farmaci che mi sono stati consigliati, non ho voluto parlarvene in dettaglio. È vero, c'era anche un integratore, ma era inserito nell'ambito di una gestione più complessa, vediamola così. Poi, insomma, il tempo, le cose, l'estate, bababà, sono passata, ho fatto un po' di riflessioni sull'integrazione che volevo riprendere al successivo cambio stagione, cioè adesso, non ho voluto rifare la cura che ho fatto allo scorso cambio stagione perché, secondo me, ha fatto, ma dovevo distogliere i miei capelli da quella tipologia di cura perché, secondo me, per come mi conosco, non mi avrebbe fatto più niente, ma prendete il discorso proprio in senso lato, nel senso che non mi avrebbe fatto più nulla perché il capello poi si abitua. Ed è il discorso che faccio sempre quando faccio girare gli shampoo, eccetera. Questo è un discorso che vale per capelli super mega wow e per capelli super mega cionpi. Nell'ambito dei capelli cionpi, secondo me, ancora di più. Quindi ho fatto un po' di riflessioni. Stan Artist, io lo vedevo un po' pubblicizzato, seguo due ragazze che mi piacciono molto, su Instagram barra TikTok, soprattutto una ragazza che si chiama Mihaela Murian, non mi ricordo, Mihaela qualcosa, se mi ricordo ve lo linko, vi metto il nome qui sotto, che anche lei la scorsa primavera aveva una situazione di capelli forse, oserei dire, quasi peggio della mia. Ha fatto una recensione molto completa dall'inizio alla fine, utilizzando anche lei il siero, poi che era Stas di cui ne abbiamo abbondantemente parlato. ha parlato appunto di questi prodotti e io all'inizio guardavo, lei diceva, un rene e mezzo, mezzo stipendio, bababà. Costano tanto, siamo onesti, costano tanto. Se andate a vedere il sito, lo vedete. I primi due mesi, i primi due mesi, quindi due mesi di fiale e due mesi di integrazioni, 250 euro, senza codici sconto, senza nulla, in prima battuta. Mi sono fatta questo regalo per me stessa, costoso, costoso. Sono fortunata perché ho potuto farlo. Non vi sto dicendo fatelo, vi sto dando la mia opinione, perché sul fronte capelli è un fronte estremamente anche psicologico. È un fronte che può deprimere, ve lo dico, perché è la realtà dei fatti. Sapete che io sono estremamente un libro aperto in questo, e per me i capelli sono stati molte, molte volte fonte di grande tristezza. E quindi quando ho avuto la possibilità di decidere se fare questo trattamento, ho potuto farlo. Mi sono fatta questo regalo, ma più che altro per me stessa e per la mia salute, perché i capelli sono parte integrante della mia salute. E lo dico proprio a pieni polmoni. Sono fortunata perché ho potuto farlo. Se potete farlo, se potete farlo, o magari adesso che si avvicinano al Natale, volete farvi fare un bel regalo, e potete farvi fare un bel regalo, fatevi questo regalo, se avete determinate problematiche. È un kit che si è fatto in maniera costante, ragazzi, tutte le sere, cioè tutte le sere si fa la fiala. Vado a massaggiarla con questo nuovo prodotto. Prima avevo... Io ho anche questo, che ho preso su Shane, che adesso io utilizzo comunque in doccia per massaggiare un po' lo scalpo. Se avete visto il mini acquisti Primark, sapete che ho preso anche questo. Da qualche giorno mi sono messa proprio a frizionare la cute con questo, che effettivamente è ancora più performante dell'altro, perché proprio sembra anche una spazzola di per sé, ma sento che lavora meglio, 2,50 euro, qualcosa. Veramente un ottimo prodotto. Queste fiale, una ogni sera, dopo un mese, io, ragazzi, vedo, vedo la differenza. Vedo la differenza innanzitutto come corposità, cioè li vedo proprio più corposi. Adesso, domani devo lavarli. Sono comunque più corposi. Ma poi, poi, qua, io, avevo già una buonissima ricrescita con la cura di questa primavera, che per i motivi che vi ho detto non ho condiviso. credo e spero mi capirete. Ma questi sono tutti i capelli che stanno ricrescendo. Guardate quanto sono aumentati. E di questa cosa sono molto contenta. Ci sto dietro tanto. Ci sto veramente dietro tanto. Nel mese di settembre, praticamente, non vi dico che ho parificato l'air care routine alla skin care, ma quasi, perché oramai è air care routine e skin care routine giornaliera, cioè tutte le sere. qui ho proprio un'abbondante, un'abbondante ricrescita, ma poi ho proprio i capelli più corposi, cioè proprio li sento più corposi alla radice. Dovrei spuntarli. Adesso presto tardi, mia mamma me li spunta. Non vado assolutamente dalla parrucchiera. però noto veramente una pienezza qua dopo un mese di trattamento che per quanto io nel corso del tempo ho provato diversi integratori che mi sono piaciuti. Trovate le recensioni sul canale, ma qui in combo con questi due noto che c'è un sostegno diverso, cioè noto proprio una pienezza diversa. E ragazzi, la caduta non vi dico che è azzerata perché due o tre cadono, credo che sia normale, ma non c'è più il mazzo di capelli sostanzialmente. Adesso domani li lavo e poi io sto utilizzando un altro prodotto di cui parleremo, li sto tenendo molto mossi con il cerchietto indietro, non li stresso assolutamente, però per dirvi, cioè non ce n'è, non ce n'è. Io ho attraversato delle fasi che facevo così che venivano giù a mazzi, non sto scherzando. Cioè sono veramente molto contenta di questo, non è assolutamente un video pagato, non è sponsorizzato, non mi hanno mandato nulla, non mi hanno chiesto di fare il video, semplicemente quando io li ho taggati su Instagram è perché c'è scritto che se tu li taghi su Instagram ti omaggiano di un codice sconto che ho utilizzato, mi è arrivato un altro ordine che ho di là, perdonatemi, non ce l'ho qui da farvi vedere, ma non mi va di andarlo a prendere, ho preso altri due mesi di trattamento di modo che completerò il ciclo dei tre mesi più il quarto, poi farò il classico stop come tutti gli altri e ho usufruito del 15% di sconto. Solo questo, e quindi l'ho pagato qualcosa meno, grazie al tag su Instagram, nulla di più, però vi dico che dopo un mese di trattamento io la differenza, la differenza la noto. Cioè, e ci tenevo a fare questo video proprio ad un mese, perché poi vi farò il video ai due mesi e ai tre mesi. E credetemi, per la problematica di capelli che ho sempre vissuto, non vi sto dicendo che adesso ho una chioma fototonica, non sto dicendo questo. Spero di avervi fatto capire che con una costanza, con una cura costante della cute, dello scalpo, dell'idratazione, questa cosa mi ha aiutato ad una cura migliore dei capelli. Veramente, cioè, mi ha proprio, li vedo veramente meglio e voglio continuare, sono fortunata a poterlo fare e se potete farlo, io ve li straconsiglio. Però, ragazzi e ragazze, tutte le sere, cioè, lo so, è una rottura, tra virgolette, però se vogliamo vedere dei risultati un po' migliori, se poi avete i capelli come i miei, credetemi, cioè la differenza io la noto, la lavorabilità, e devo dire che ho anche i capelli un po' meno grassi, tendono anche a, ma infatti, tendono ad aiutare nella produzione di sebo. qua non c'è, ah sì, c'è il foglio infatti, test di efficacia effettuati presso la facoltà di farmacia Federico II di Napoli, 100% maggior spessore e massa di capelli, il 90% nota una minor caduta dei capelli, il 95% trova che i capelli crescono più velocemente, il 100% che i capelli sono più sani. io dopo un mese lo vedo. Io non lo so se voi lo percepite perché mi seguite, vedete i video, eccetera, francamente io la differenza la noto e il fatto che quest'anno io abbia cominciato al cambio stagione un'integrazione dei capelli fiale e integrazione tutti i giorni è una cosa che percepisco in maniera diversa rispetto a solo l'integrazione per bocca. Questo non vuol dire che tutte le integrazioni che ho fatto fino ad ora non valgono, le beauty recensioni che ho fatto erano veritiere per quel prodotto per quel periodo. Devo dire che con Stanartis io la differenza andando a integrare per capello e per bocca quotidianamente la differenza si nota nell'ambito di un capello veramente problematico. Quindi è un prodotto che dopo il primo mese ricerca della bellezza appunto dice sì mi sta dando psicologicamente delle soddisfazioni importanti. Spero che si sia capito il punto. Ci riaggiorniamo tra un mese quando avrò finito anche questa confezione e anche l'altro mese per bocca e vedremo un po' la differenza. Ci confrontiamo, vi farò vedere appunto la ricrescita qua, come siamo messi, le problematiche, guardate quanti nuovi capelli che ci sono. Ci riaggiorniamo tra un mese e farò in totale quattro mesi e vedremo un po'. il primo mese è sicuramente ottimale ho già avuto della buonissima risposta voglio assolutamente continuare poi io in combo faccio anche un'abbondante idratazione ma non ve ne parlo in questo video perché poi diventa troppo già i finiti beauty sono stati lunghissimi mi piace veramente tanto fatemi sapere se lo conoscete se andrete a curiosare sul sito purtroppo costicchia ma vale tantissimo spero che si sia capito il punto anche di questo acquisto però dopo il primo acquisto se li taggate su instagram vi mandano uno sconto quindi che è personale quindi chiaramente ognuno deve fare quello che può veramente veramente valido e se avete seguito tutta la mia storia dei capelli di vari aggiornamenti credetevi se vi dico che dei miglioramenti li sto vedendo ve lo straconsiglio fatemi sapere se vi interessa l'aggiornamento dopo due mesi sapete che poi le cose le faccio però i feedback le richieste incentivano sempre anche un po' di più e quindi mi farebbe piacere appunto saperlo da voi se il video vi è stato di interesse fatemelo sapere nei commenti lasciandomi anche un like di supporto se vi fa piacere ci sono anche gli altri social indicati nell'info box farò un video a parte sull'idratazione capelli perché non volevo mixare le cose stanartis grazie perché questa integrazione quest'anno mi sta facendo tenere i capelli sciolti più tranquilla e non è una cosa da poco credetemi alla prossima ciao a tutti